Eccoci, diretta dal Parlamento europeo, con queste strane luci dietro, vediamo se riesco a sistemare un po' meglio questa inquadratura. Saluto tutti intanto. Saluto Gianpiero De Gaulle, saluto Salvatore Fallica, saluto Gianfranco Spanti, Ivan Baglio, interrotto per la cosa che non mi piace. Saluto Agnese Caldera, saluto Michela Questioni, un po' tutti voi, come tutti i giorni aspettiamo qualche minuto e aspettiamo che vi connettiate prima di iniziare con la diretta vera e propria. Io ho una cosa che non mi piace, provo a spostare un po' l'inquadratura nel frattempo. Saluto Antonio Gussio da Catania, saluto Nadia Sampognaro, saluto Carmela Capo, saluto Maria Rosaria Mollicone, ciao Maria Rosaria, ciao Patrizia Guazzi, un abbraccio a tutti voi, Marcello Murino, Grande Dino, presto i numeri di Scanzi, no, i numeri di Scanzi, Scanzi è una star del web, io sono un parlamentare europeo, come vedete alle mie spalle mi trovo in Parlamento europeo, anzi quasi quasi mi sgancio questa mascherina con mascherina di ordinanza e guanti che ho tolto momentaneamente, visto che mi trovo in assoluto isolamento. Aspettiamo che siate un po' di più e poi partiamo davvero con la diretta, dopo la diretta di ieri vi ringrazio per i grandissimi numeri che abbiamo fatto, ma ripeto quando capita di fare con dei post, con dei video, con delle foto che pubblico, con dei meme, con delle dirette, dei numeri così grandi, non sono contento perché me ne venga qualcosa a me, ma perché riusciamo a diffondere un messaggio onesto, concreto, sincero rispetto a quello che succede. Bisogna lottare per la verità. Uno dei grandi problemi che abbiamo in questo periodo storico in Italia è annoso perché dura da tanti anni, effettivamente è quello dei mezzi di comunicazione, dei mezzi di comunicazione di massa in particolare, della tv, di quello che viene raccontato ed è la distanza fra quello che viene raccontato e la realtà, perché purtroppo, spesso e volentieri, la realtà viene occultata o viene mascariata, come si dice quando si parla di cose di mafia qui in Sicilia, e la realtà che viene passata dai media non è reale, è falsa, è una presa in giro, è un tentativo di rabbonire, di modificare quello che pensano i cittadini. Invece la stampa dovrebbe essere libera e invece in Italia fondamentalmente non lo è, con rarissime eccezioni, vedi appunto il fatto quotidiano. Parliamo anche di questo, parleremo di Amedeo Tramuto, mi scrive, ti prego di interessarti della situazione grave in Sicilia, la vergognosa vicenda della Cassa Integrazione Inderoga. Parliamo tantissimo di questo, parliamo naturalmente, come ho annunciato, della situazione, di quello che si è venuto a creare dopo l'intervento telefonico del dottor Di Matteo alla trasmissione di Giletti, non è l'arena, dove ero anche presente io, sempre in collegamento da Bruxelles, e dove poi è intervenuto anche il ministro Bonafede. Io saluto tutti voi, adesso iniziamo davvero a parlare, come sempre mi prendo i primi minuti, insomma, per far sì che ci siate tutti. Mi auguro che si senta bene, saluto Franco Natola, Adriana Chiedivois, Tinalupo, Dino Di Ilio, che ti ringrazio per il tuo affetto, saluto Cosimo Marasco, Ruggero Cosentino, ciao Ruggero, come stai? Ruggero Cosentino, che non vedo da un po' di anni, da Valverde. Sì, giustamente Stefano Luigi Morabito fa una domanda intelligente, saluto Maurizio Camilleri, saluto la mia collaboratrice, nonché amica Tania Di Uff, da Sassari, Alessandra Bagnato, ciao Alessandra. Alcuni deputati del 5 Stelle hanno messo il slogan, sto con Bonafede, non sono d'accordo, stiamo con entrambi, ecco, io sto con entrambi, ma sto con Bonafede, sì, sono d'accordo a stare con Bonafede. Stare con Bonafede non significa stare contro, certamente, il giudice Di Matteo, che è una persona che ha dato fondamentalmente la propria vita per la lotta alla mafia, e quindi dobbiamo essere intelligenti abbastanza da capire perché si è creata questa contrapposizione ed è una delle cose di cui parleremo oggi. Parleremo anche della scandalosa vicenda della Cassa Integrazione in Sicilia perché è giusto fare il punto sulle vicende, diciamo, giudiziari, eccetera. Bisogna anche pensare che i cittadini vanno aiutati, che la Regione Sicilia deve fare la sua parte, tutte le Regioni devono fare la loro parte sulla Cassa Integrazione, non lo hanno fatto finora, e questo, soprattutto alcune Regioni, e parlo soprattutto di Sicilia e Sardegna, ed è molto, molto, molto squallido e scandaloso, è una roba imbarazzante. E oggi è successa una cosa particolarmente schifosa, di cui parleremo a breve, che riguarda le pratiche della Cassa Integrazione. Cioè pare che dei lavoratori della Regione abbiano chiesto 10 euro a pratica come bonus per questa Cassa Integrazione. è di una gravità assoluta e già i nostri parlamentari regionali, perché in Sicilia c'è un Parlamento regionale, i nostri deputati regionali, portavoce alla Regione, si sono mossi perché questo venga adeguatamente. Sapete chi mi ha chiamato? Perché adesso vi fate due risate. Ho ricevuto una telefonata in questo momento mentre parlavo di parlamentari regionali da parte di Angela Foti, che è la nostra vicepresidente dell'Ars, una parlamentare regionale, che evidentemente non sa che io faccio la diretta alle 18. È anche vero che l'ho spostata, nei giorni scorsi la facevo alle 15. Allora, facciamo un po' d'ordine e poi risponderò anche alle vostre domande. Naturalmente, chiaramente non a tutti, ieri sono arrivate oltre 15.000 commenti, chiaramente come capite da soli, ci vorrebbero 15 giorni per rispondere a 15.000 commenti, a mille al giorno sarebbe forse anche da... forse ce ne vorrebbe di più. Quindi rispondo a quelli che riesco a vedere, quelli che riesco a leggere. Allora, parliamo immediatamente di quello che è successo domenica da Giletti. Vi dico subito una cosa. La diretta che ho fatto ieri, che dura un'ora, io l'ho chiamata, vi spiego perché, vi spiego come funziona un agguato televisivo, perché quello di Giletti è stato un vero e proprio agguato, io lo dico con molta serenità anche, non è che punto il dito indignato, però dico la verità, perché così come Giletti è giusto che faccia il proprio lavoro, come crede, è altrettanto giusto che io, che sono un parlamentare e che sono stato un inviato televisivo di un programma molto seguito come Le Iene, posso e anzi debbo dire quello che penso, fra l'altro essendo laureato in scienze della comunicazione, è quello che ho studiato, prima in teoria e poi in pratica sul campo, di come funziona la comunicazione televisiva. Credo di saperlo abbastanza bene. E quello di Giletti è stato un agguato. Questo lo dobbiamo dire con molta chiarezza, anche serenità, però con molta chiarezza, senza darci fuoco in piazza, però dicendo che è stato un agguato. Un agguato al lavoro di un governo e al lavoro di un ministro, che si chiama Alfonso Bonafede, che io difendo e difenderò sempre, finché non fa delle cose per cui non è degno difenderlo. Finora va difeso alla stragrande, perché Alfonso Bonafede è la persona che ha guidato in maniera integerrima il Ministero di Grazie e Giustizia, promuovendo insieme al nostro gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle alcune riforme importantissime. Vi ricordo, per esempio, che la riforma della prescrizione in Italia era un tabù, che grazie alla prescrizione personaggi come Andreotti hanno evitato una condanna per mafia, perché Andreotti è stato riconosciuto da un tribunale come colpevole, ma non punibile per sopraggiunta prescrizione, non per un reato bagatellare, non perché avesse fatto, come qualcuno dice, un abuso d'ufficio, peraltro che secondo me è un reato anche grave, ma comunque perché avesse rubato una merendina a un suo amico. Andreotti è stato ritenuto colpevole, ma non punibile per sopraggiunta prescrizione, per reati legati all'associazione mafiosa. E questo è uno scandalo, una macchia nella storia del nostro paese che non dovremmo dimenticare, che dovremmo scrivere nei libri di storia dalla mattina alla sera, che dovremmo spiegare ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, ai nostri liceali, ai nostri universitari dalla mattina alla sera, perché probabilmente non lo sanno, non sanno del lavoro fatto da Andreotti in Sicilia, dei contatti fra lui e il suo uomo Salvo Lima con alcuni personaggi siciliani della mafia siciliana e delle imprenditorie siciliane. Qui c'è un libro, con me un libro, si chiama Catania Bene, è del magistrato Dottor Ardita, ve lo faccio vedere bene, così non è al contrario. Eccolo qua, Sebastiano Ardita, Catania Bene, nel frattempo vedete, ci sono pure le bandiere del Parlamento Europeo. Perché vi faccio vedere questo libro, che vi consiglio di leggere? Perché questo libro, insieme al suo seguito, che si chiama Cosa Nostra S.p.A., spiega molto bene come la mafia catanese in particolare, ma siciliana in generale, si sia inserita molto bene nel mondo imprenditoriale e quindi, mentre in altre zone c'è stata una mafia solo violenta, per esempio la strategia mafiosa dei corneonesi, la strategia mafiosa dei catanesi, dei clan catanesi, è stata quella di venire sempre a patti con lo Stato, con lo Stato inteso come istituzioni e quindi intrufolarsi, inquinare la politica, la giustizia, i corpi di polizia, eccetera, e dall'altro canto con lo Stato civile, cioè con i negozi, con le aziende, con le imprese, con il concessionario di auto, con le imprese di costruzione, con le più importanti imprese locali, facendole crescere e spartendosi con altri clan di altre zone italiane, non soltanto poi il racket delle estorsioni, dello spaccio, del contrabbando di sigarette, dello spaccio di droga, eccetera, ma anche quello degli appalti, spartendosi appalti pubblici, a Palermo vince quello, a Catania facciamo vincere quell'altro, a Messina quell'altro, eccetera, questo è stato accettato da una parte politica, anzi è stato favorito da una parte politica, e nei libri di storia, se fossimo un Paese molto attento a fare una lotta alla mafia completa, nei libri di storia dovremmo scrivere chi era Giulio Andreotti, quale tipo di rapporti ha avuto questo signore, che è stato, lo ricordo, sette volte Presidente del Consiglio, è il record della persona che lo è stato più volte, è una trentina di volte Ministro, ed è stato senatore a vita, è stato nominato da Cossiga come senatore a vita, nei primi, se ben ricordo, nel 90 più o meno, adesso vado a memoria, questo signore dopo quella sentenza è rimasto ancora senatore a vita, si è raccontato di una sua assoluzione, mentre ripeto, l'assoluzione è una cosa, ma dire, quando un tribunale dice, è effettivo che ci siano stati questi contatti con la mafia, gravi, eccetera, ma non è punibile per sopraggiunta prescrizione, cosa significa? Cosa significa? Significa che la prescrizione è stata l'arma con la quale i colletti bianchi, spesso e volentieri, i politici collusi con la mafia, in generale i potenti che avessero commesso dei reati, hanno evitato il giudizio, perché la prescrizione evita il giudizio, ed è successo anche a Maglio Messina, l'assessore regionale di Musumeci, che recentemente ha fatto quella porcata che è stata fare un fotomontaggio con il presidente Conte in manette portato dai carabinieri, una cosa schifosa, vergognosa, è quello che nella realtà è stata sostituita alla faccia di Conte, è stata sostituita alla faccia di un mafioso, quindi era un arresto di mafia, pensate quale porcheria ha fatto Maglio Messina, che è ancora lì, perché Musumeci non ha il coraggio di fare un atto intelligente e di allontanarlo, ebbene Maglio Messina è sfuggito a un giudizio per accuse molto gravi legate alla sua attività di consigliere comunale, accuse legate a denaro pubblico, per intenderci, è sfuggito al giudizio grazie alla prescrizione, non ha rinunciato alla prescrizione, perché la prescrizione si può rinunciare, lui naturalmente se ne ha avvalso. Allora Alfonso Bonafede cosa ha fatto? Ed era uno storico, Alfonso Bonafede come ministro, ma il Movimento 5 Stelle, come forza politica, si è sempre battuto, affinché la finissimo con questa storia della prescrizione, perché la prescrizione va bene quando un processo per varie cause dura troppo e un povero Cristo non può stare con la spada di Damocle tutta la vita, giusto? Ma questo non ha niente a che vedere con Andreotti, non ha niente a che vedere neanche con Maglio Messina, non ha niente a che vedere con la corruzione, non ha niente a che vedere con i rapporti che la mafia ha avuto e ha purtroppo con alcuni politici e quindi quando Andreotti fa quelle porcate di cui è stato responsabile in un altro paese anche se fosse sopravvenuta la prescrizione avrebbe avuto una condanna politica perché in nessun paese del mondo esiste che un tribunale dice sì, effettivamente è stato vicino alla mafia fino al 1980, non lo possiamo punire per prescrizione, questo è già grave in sé, ma pensate l'opinione pubblica di qualunque altro paese, pensate la Germania, pensate la Francia, pensate la Spagna, pensate gli Stati Uniti, pensate il Regno Unito, un politico che si scopre abbia avuto rapporti con la mafia, ha finito la sua carriera, in Germania per molto meno si finiscono le carriere, è stato un ministro che ha smesso di fare politica perché si è scoperto che avesse copiato una parte, un paragrafo di una tesi di dottorato, questo è il livello di attenzione all'etica in altri paesi, in Italia è esattamente il contrario, chi rubacchia, chi fa cose strane, i partiti tradizionali li hanno sempre in qualche modo promosso personaggi del genere, poco trasparenti, spesso purtroppo anche legati alla criminalità in maniera palese o occulta, vi ricordo anche le condanne definitive del Presidente della Regione Cuffaro per favoreggiamento aggravato anche a dei clan mafiosi e del Presidente della Regione Lombardia Formigoni invece per problemi di soldi legati alla sanità privata, dell'ex segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, il cui delfino era proprio Martelli che stava l'altro giorno in trasmissione e pontificava e devo dire anche con un certo aplomb per carità, però parlava lui di problemi di Alfonso Bonafede Martelli è stato condannato anche lui in passato per vicende legate al finanziamento illegale del Partito Socialista, vicende di corruzione, di tangenti, eccetera. Insomma, attenzione perché continuo a dire che quella trasmissione sia stata un agguato. Allora, chi è Alfonso Bonafede? È proprio la persona che ha portato in prima persona essendo stato scelto a fare il ministro la grandissima idea di riforma della prescrizione del Movimento 5 Stelle che peraltro era una una battaglia che avevano condotto prima che esistesse il Movimento 5 Stelle anche altre forze politiche che poi incredibilmente dicono no ma la prescrizione si deve toccare perché lo fa il Movimento vi rendete conto? E questo vale anche per la legge sulle intercettazioni. Quando il governo Berlusconi fece una legge incredibile che bloccava le intercettazioni il quotidiano Repubblica lo sapete come usciva? Veniva editato con dei post-it molti articoli c'erano accanto un finto post-it diciamo l'immagine l'icona di un post-it con scritto se passa la legge sulle intercettazioni questo articolo non potrà più essere pubblicato articoli come questo non potranno più essere pubblicati questo faceva Repubblica quando Berlusconi voleva fare la legge sulle intercettazioni poi quando la fece il centro-sinistra cosiddetto di Renzi dove c'era un partito che si chiama centrodestra di Alfano il ministro era Orlando Repubblica è stata zitta improvvisamente e ci è voluto Alfonso Bonafede al ministero di Grazie e Giustizia per modificare anche quella legge e per finalmente modificare la legge sulla prescrizione e per finalmente fare dopo 25 anni dal 92 28 anni che l'aspettavamo una legge anticorruzione degna di tale nome che si chiama Spazzacorotti l'abbiamo chiamata Spazzacorotti non vi piace il nome però è una legge anticorruzione molto seria dove chi ha tentato non solo chi ha corrotto chi ha tentato di corrompere un pubblico ufficiale non può più partecipare agli appalti allora vogliamo parlare dei meriti di Alfonso Bonafede o ce li vogliamo dimenticare perché il dottor Di Matteo ha fatto una telefonata io credo che sia scorretto questo non bisogna si può criticare assolutamente la scelta le scelte di Bonafede come tutti gli esseri umani chi è che non è criticabile al mondo? nessuno ma dimenticarci chi è Alfonso Bonafede che ha firmato 686 41 bis che vive sotto scorta che è la persona la punta la testa di ariete della riforma della prescrizione della legge sulle intercettazioni dello spazio a corrotti beh definire Alfonso Bonafede una persona che ha avuto paura di qualche rivolta dei mafiosi e quindi non ha nominato il dottor Di Matteo è semplicemente un falso è una cosa inaccettabile e quindi non dobbiamo cadere nella provocazione perché qual è la provocazione? leggo alcune domande che scorrono poi rispondo per esempio a Flavio Casignola gli risponderò in maniera dettagliata qual è la provocazione? state attenti per favore ascoltatemi ho visto che qualcuno di voi fa dei pezzettini delle mie dirette e poi li mette su Twitter su Facebook fate questo pezzettino che vi dico quello che è successo domenica nel programma di Giletti ha un solo scopo dividere il fronte della vera antimafia perché l'antimafia lo sappiamo è importantissima e proprio perché è importantissima negli anni passati in Italia è stata inquinata vi ricordo soltanto che il signor che in Sicilia il capo di Confindustria Sicilia c'è un vuoto di memoria che aveva tanto spinto la candidatura di Crocetta e si è scoperto che avesse impostato un sistema di finta antimafia a causa del quale è stato condannato a 14 anni 14 anni di reclusione in Sicilia abbiamo avuto un magistrato la dottoressa Saguto che gestiva i beni sequestrati dalla mafia e purtroppo abbiamo visto che li gestiva in maniera non corretta ed è stata radiata dalla magistratura quindi attenzione una finta antimafia ci può essere ma invece tanto Alfonso Bonafede quanto il dottor Nino Di Matteo hanno combattuto con onestà la mafia dando la propria vita in particolare il dottor Di Matteo che è sempre stato un magistrato antimafia per la lotta alla mafia sacrificando i propri affetti sacrificando la vita dei propri familiari perché sapete benissimo che un padre che ha una moglie e dei figli quando poi fa quel tipo di lavoro deve stare attento e deve stare preoccupato del fatto che la propria moglie i propri figli possano avere delle conseguenze e quindi la scorta la scorta per sé la scorta per loro spostamenti complicati quella è la vita di un vero magistrato antimafia e noi dobbiamo rispettare il dottor Di Matteo che ha fatto questa vita è una vera icona dell'antimafia allo stesso modo Alfonso Bonafede ne ho parlato prima è una persona specchiata integerrima che ha sempre lottato a favore della legalità e contro la mafia allora qual è l'obiettivo di una trasmissione come quella è quella di mettere in cattiva luce un ministro che davvero sta lottando perché cambino le cose in Italia perché guardate che la riforma della prescrizione perché gli avvocati hanno fatto come i pazzi perché i grandi criminali col colletto bianco legati ai grandi appalti i lobbisti determinate banche determinati politici collusi con determinati affari spesso e volentieri hanno utilizzato la prescrizione per telare dal processo e prima vi ho fatto anche l'esempio di un ex presidente del consiglio e di un ex consigliere comunale oggi assessore regionale prescritto Maglio Messina allora questo è la colpa originale di Bonafede avere riformato la prescrizione avere fatto una legge anticorruzione seria avere riformato la legge sull'intercettazione e quindi qual è l'aguato qual è l'intelligenza che c'è dietro perché delle cose non avvengono per caso dice impostiamo una campagna stampa contro Bonafede diciamo che per colpa sua sono stati scarcerati 400 mafiosi non è vero non è vero non c'entra nulla il ministro anzi il ministro non appena si è accorto che alcune cose non erano andate come sarebbe stato giusto che fossero andate ha immediatamente emanato un decreto legge a tempi record dove cosa si dice che la legge che è stata usata per fare scarcerare non scarcerare mettere ai domiciliari e avere per alternative quei anche diciamo anche tre persone tre boss chiamiamoli come volete che stavano al 41 bis e diversi personaggi appartenenti colonnelli magari anche di seconda scelta di terza scelta ma comunque appartenenti alla criminalità organizzata ebbene quelle persone sono state scarcerate utilizzando l'articolo 147 del codice penale il che non ha nulla a che fare con la volontà del ministro con le facoltà del ministro perché l'Italia è una repubblica democratica dove la magistratura è un potere indipendente tanto dal potere legislativo quello del parlamento quanto dal potere esecutivo quello del governo quindi un membro del governo un ministro non può interferire direttamente nella scelta di un magistrato è chiaro? ma scrivetevelo proprio a lettere d'oro in testa perché prima della trasmissione di Giletti girava già la notizia che Bonafede aveva fatto scarcerate 350 boss ed è falso ed è un attacco alla persona e al governo che più stanno facendo contro la corruzione e quindi anche contro la mafia lo disse anche il giudice Falcone lo disse il giudice Borsellino lo disse Giancarlo Siani una vittima un giornalista ucciso dalla mafia senza la corruzione non potrebbe esistere la mafia non potrebbe esistere la camorra perché la facoltà di movimento che hanno queste grandi associazioni criminali mafiose ce l'hanno grazie alla forza della corruzione e abbiamo purtroppo visto casi di giudici corrotti di funzionari di polizia di grandi servitori dello Stato teorici che poi si è scoperto fossero dei traditori perché? per i soldi perché venivano corrotti quindi una legge importante anticorruzione aiuta a sconfiggere la mafia così come una legge sulla prescrizione e allora qual è stata la tattica sfruttiamo questa emergenza coronavirus e queste scarcerazioni che c'erano state anche prima nei decenni passati ce ne sono state anche molte di più in alcune situazioni legate a un articolo del codice penale che non ha nulla a che vedere con l'azione di governo e con quello che ha fatto Alfonso Bonafede perché esiste da decenni è chiaro e non è mai stato modificato da nessuno anzi molti che oggi si protestano hanno detto ah ma voi siete giustizialisti quando il movimento 5 stelle protestava contro quelle scarcerazioni continuano a dire ah ma voi siete giustizialisti la gente invece deve essere scarcerata perché ha problemi di salute verissimo bisogna rispettare tutti dopodiché si possono curare determinate patologie anche in ambienti carcerari o in ambienti protetti non per forza a casa perché sappiamo benissimo che agli arresti domiciliari è più facile per i vecchi boss riprendere a fare quello che facevano prima e quindi il 41 bis voluto da Giovanni Falcone esiste proprio per questo e quindi quando un magistrato quando un giudice chiedo scusa lavora bene gli si addossano colpe che non ha quando volevo dire un ministro chiedo scusa il ministro Bonafede sta lavorando bene e politicamente la sua parte politica è riuscita a far passare perché l'abbiamo fatta votare pure agli altri quando poi si dice il movimento si sta facendo corrompere si sta facendo sta somigliando alle altre forze politiche forse è anche il contrario anzi mi permetto di pensare e anche di sperare che sia esattamente il contrario perché il reddito di cittadinanza non è che l'abbiamo votato solo noi l'abbiamo proposto noi ma l'hanno votato pure gli altri se non non c'era la maggioranza la riforma della prescrizione l'hanno votata pure gli altri la riforma delle intercettazioni l'hanno votata pure gli altri è chiaro sono leggi sui quali non solo il movimento ha lavorato ma ha trovato la maggioranza perché da soli noi la maggioranza non ce l'abbiamo in Parlamento questa cosa deve essere chiara perché se non è chiara forse il cittadino che non la conosce pensa che qualcuno sta facendo il gioco dei clan non è così è chiaro nessuna sentenza di scarcerazione cita il decreto cura Italia perché non c'entra assolutamente nulla e la popolazione carcerale italiana che ha 56.000 mi sembra 53.000 56.000 detenuti ha soltanto 150 positivi al coronavirus c'è una media che è assolutamente in linea con le medie nazionali quindi non è vero che stare in carcere è più pericoloso per il coronavirus che stare altrove anche nelle regioni più colpite quindi si è lavorato bene anche per i diritti dei carcerati dopodiché vi prego ragionate sul fatto che niente poteva essere utile a certe forze che avevano sempre attaccato Di Matteo e veniamo al punto perché io dico che sto con Bonafede e che sto con Di Matteo non c'è una dicotomia tra queste due persone non c'è uno scontro il gioco che stanno facendo i media e che stanno facendo i partiti che sempre hanno contestato un magistrato antimafia valido e integro come Di Matteo quel gioco lì è quello di dividerci è chiaro? quindi vi prego non cadete in questo gioco non scrivete su facebook attacchi al dottor Di Matteo o attacchi ad Alfonso Bonafede perché entrambi sono due persone per bene che stanno lavorando per lo Stato e contro la mafia e la volontà di chi fino a ieri ha scritto bene oggi l'editoriale di Marco Travaglio sul fatto quotidiano chi fino a ieri attaccava Di Matteo Di Matteo che è stato un importante giudice del processo sulla trattativa Stato-mafia ve lo ricordo lo attaccava lo insultava scrivendo delle cose schifose o scene contro questo servitore dello Stato oggi dice ah scandalo Bonafede non ha voluto Di Matteo perché ha avuto paura dei boss questo si chiama agguato questo si chiama falso e stanno cercando di fare passare questo falso per mettere le persone per bene di fronte a un bivio a una scelta o sto con Bonafede o sto con Di Matteo è una schifosa alterazione della realtà i fatti sono stati chiari lo ha detto anche il ministro stesso in un post ieri su Facebook e lo ha scritto anche oggi Marco Travaglio in un buon editoriale del fatto quotidiano il ministro aveva offerto due alternative al dottor Di Matteo era più propenso a dargli la poltrona che fu di Giovanni Falcone in passato di quel dipartimento e invece il dottor Di Matteo era più propenso ad avere la poltrona del DAP ci sono state queste 48 ore di mezzo nelle quali quindi poi Bonafede aveva optato per la nomina di Basentini al DAP e di Di Matteo a quell'altra Di Matteo ha scelto e lo ha detto lui stesso anche nella telefonata di non accettare l'altra poltrona perché avrebbe preferito quella ma non lo ha detto immediatamente e quindi quella cosa è sfumata ma questo non significa che Di Matteo non abbia continuato la sua eccellente azione antimafia da magistrato e da membro del CSN e questo non significa che Alfonso Bonafede non abbia continuato la sua eccellente attività di ministro di Grazia e Giustizia con un occhio molto attento a prevenire la corruzione e alla mafia anche senza la collaborazione diretta del dottor Di Matteo perché non è che l'antimafia non ha funzionato perché non c'era Di Matteo che non c'era nemmeno prima diciamocelo chiaramente a me dispiace che sia successo questo mi dispiace che ci sia stata quella telefonata in diretta naturalmente e mi dispiace perché sapevo nel momento stesso in cui ero lì e ascoltavo quella telefonata sapevo che sarebbe stata strumentalizzata e lo è stata strumentalizzata da chi? da quelli che hanno sempre attaccato Di Matteo fateci caso andatevi a vedere le dichiarazioni della Meloni di Salvini di quei giornalisti che oggi dicono ah Bonafede scandalo non ha cessato Di Matteo erano quelli che attaccavano Di Matteo perché sosteneva la tesi della trattativa stato-mafia peraltro tesi che ha portato a condanne pesantissime e quando si va a parlare in tv di mafia bisogna farlo in maniera corretta ed oggettiva ora poi rispondo alle vostre domande allora io vi faccio un ultimo schemino poi spero di riuscire a fare questo video su quello che è successo domenica da Giletti innanzitutto in testa di trasmissione c'era la Meloni e lui non gli ha fatto una domanda alla Meloni io vi invito a vederlo quel pezzettino non gli ha fatto una sola domanda sui tanti esponenti di Fratelli d'Italia indagati o arrestati o con richieste d'arresto per fatti di mafia corruzione ma anche di mafia è il caso della Calabria per esempio del consigliere Creazzo silenzio da parte di Giletti ma dico Giletti se sei così attento nella lotta alla mafia perché non hai detto non hai chiesto nulla alla Meloni su questo eri distratto ti sei distratto non ci hai pensato i tuoi autori non te l'hanno detto o c'era un atteggiamento particolarmente gentile nei confronti di Giorgia Meloni secondo voi qual era la risposta c'era un atteggiamento particolarmente ha trattato Giorgia Meloni come ha trattato poi me quando io ero ospite lì o come ha trattato al telefono Alfonso Bonafede no ve lo chiedo perché magari uno è paranoico io non credo mi pare che la conosco la televisione e lo so come un presentatore possa modificare nello spettatore la percezione di quello che vede dal solo atteggiamento se tu presentatore dimostri ammirazione nei confronti del politico ospite è evidente che lo spettatore prenderà la parte del politico ospite è una cosa elementare uno schemino ma io veramente vorrei scrivere un trattato perché sembrano a me cose tanto elementari ma mi accorgo che molte persone si fanno ingannare nel momento in cui un presentatore un conduttore televisivo è così generoso così gentile così ben disposto verso un ospite politico quell'ospite politico verrà visto bene dallo spettatore lo capite questo? e andatevi a vedere l'atteggiamento di Giletti con Giorgia Meloni come l'atteggiamento di Giletti con Salvini qualche settimana fa disse c'era la figlia di Salvini digli che lo saluta lo zio Giletti ecco io non voglio essere io non ho figli ma ho due nipoti non vorrei che Giletti dicesse di me dia alle tue nipoti che lo saluta lo zio Massimo Giletti perché Massimo Giletti è un professionista fa il giornalista mi deve incalzare mi deve fare le sue domande mi deve lasciare parlare possibilmente ma non voglio che lo spettatore apprezzi me perché il conduttore è particolarmente generoso con me particolarmente gentile e mi mette in particolare buona luce io sono io qua c'è la mia attività politica e parlo della mia attività politica delle mie idee di quello che ha fatto il governo di quello che facciamo in Parlamento Europeo questo dovrebbe essere la stampa e invece cosa succede in quella trasmissione? riassumiamola ai tagliatori di pezzi questo è un pezzo buono Giletti inizia una trasmissione intervistando Giorgia Meloni in maniera gentilissima garbatissima dimostrando stimolando nello spettatore stima per quell'ospite politico perché è particolarmente gentile non la interrompe mai non la incalza mai non gli fa una domanda scomoda e non gli chiede nulla sui suoi indagati arrestati e esponenti con richiesta di arresto per mafia non gli chiede nulla non gli dice mezza parola su quello ok? poi inizia un'altra parte del programma dove c'era anche Sileri dove c'era la di Girolamo eccetera poi si parla di mafia ma perché se si parla di mafia alla Meloni non gli hai chiesto una parola? perché per parlare di mafia bisogna fare il processo al ministro Bonafede e al governo che hanno scarcerato i boss e non è vero e non è vero perché vi ho dimostrato che il codice l'articolo del codice per cui sono stati scarcerati i boss non ha nulla a che vedere con le facoltà del ministro e che comunque il ministro ha fatto un decreto per rendere più complicata quella scarcerazione che ripeto non può impedire può rendere più complicata è chiaro? eppure Giletti alla Meloni che ha gli indagati per mafia nel partito e se li tiene che ha le richieste d'arresto per il suo consigliere regionale Grazzo e se lo tiene non gli dice una parola ed è particolarmente gentile poi si parla di questa cosa delle scarcerazioni e se ne parla raccontando il fatto che è responsabilità del governo e non è vero invitano me mentre io parlo Giletti in continuazione mi interrompe quando io spiego il fatto che quell'articolo del codice penale esiste da decenni Giletti in continuazione mi interrompe si cerca di raccontare la cosa dicendo c'è una responsabilità politica è colpa del ministro è colpa del governo non lo si dice esplicitamente ma lo si fa capire ragazzi non ci prendiamo per il culo siamo persone adulte siamo tutti persone adulte se tu continui a dire ah ma Basentini ha fatto questo ah ma basta non la scaricate sul magistrato la cosa ma la responsabilità è del magistrato la responsabilità non è del ministro però si continua a raccontare delle cose in maniera che si metta in cattiva luce il ministro nella lotta alla mafia un signore che ha fatto la riforma della prescrizione che ha fatto lo spazzacorrotti tu lo attacchi su questo naturalmente io avete visto come sono stato trattato in continua interruzione eccetera addirittura a un certo punto arriva il capitano ultimo che è stato uno dei protagonisti dell'arresto di Totorina e però sul capitano ultimo io chiedo cosa ne pensa capitano ultimo del fatto che alcuni partiti abbiano persone indagate o addirittura con richieste d'arresto per mafia al loro interno e non li caccino e lui balbetta un po' una risposta poi capitano ultimo è assessore della giunta della Santelli proprio in Calabria alleata di Fratelli d'Italia che non ha espulso il suo consigliere regionale per cui c'è stata una richiesta di arresto per mafia quindi il capitano ultimo sapeva benissimo di cosa stavamo parlando e non ha saputo dare una grande risposta con grande insofferenza di Giletti che ha detto ora facciamo pure le domande fai la domanda forza facciamo la domanda tutto nervoso perché la speranza era che qualcuno io o qualcun altro che ci fosse stato al posto mio tipo Agnello Sacrificale andava lì a dire tagliatemi la testa e io sono funzionale alla vostra narrazione no con me questa cosa non funziona poi però succede il colpo di scena la telefonata di Di Matteo che dice che racconta il fatto come abbiamo detto più volte abbiamo sviscerato più volte del contatto con Bonafede e poi del fatto che Bonafede gli ha proposto quell'altra opportunità quell'altro incarico invece il dottor Di Matteo avrebbe preferito quello del DAP non si sono diciamo coordinati come tempi e alla fine Bonafede gli ha detto quello del DAP l'ho già data perché non vai nel ruolo che è stato di Giovanni Falcone il dottor Di Matteo dice io anche per una questione di orgoglio non volevo andare in quel ruolo e rimane al CSM e continua a fare il giudice antimafia benissimo al CSM è un pubblico ministero eccellente il dottor Di Matteo incorruttibile e allo stesso modo Alfonso Bonafede continua a fare un'eccellente attività antimafia e anticorruzione al ministero per cui raccontare la balla che questo episodio questa mancata coordinazione questa mancata collaborazione fra Di Matteo e Bonafede e significa che Bonafede ha paura dei boss è una balla anche perché attenzione le intercettazioni di cui si è parlato utilizzando falsamente quelle intercettazioni come motivo del fatto che Di Matteo non si è dal DAP quelle intercettazioni erano uscite prima erano già uscite sui giornali se ben ricordo sul Fatto Quotidiano e sull'Espresso quindi si sapeva già quando Bonafede gli fa la proposta allora se Bonafede avesse avuto paura di quelle intercettazioni sempre a chi ritaglia se Bonafede avesse avuto paura delle lamentele dei mafiosi rispetto alla nomina di Di Matteo non gliela avrebbe nemmeno proposta quindi è una prova provata del fatto che non gliene fregava niente a Bonafede di quelle intercettazioni il problema è che c'è stata una proposta di due possibili incarichi Bonafede voleva metterlo in uno Di Matteo preferiva l'altro con i tempi le cose si sono sommate e alla fine Bonafede ha detto no vai in quella che è stato il ruolo di Giovanni Falcone Di Matteo ha detto no allora preferisco continuare a fare il magistrato antimafia e questo non significa che Bonafede sia una cattiva persona o peggio che meno che si faccia influenzare dai boss chi scrive questo lo scrive chi vuole aiutare lo dico con molta serenità la mafia c'è stato c'è stato una una interruzione spero che che non crolliate troppo ci siamo di nuovo stavo dicendo saluto Giovanni Angemi ho visto che si è subito riconnesso e mi dispiace perché eravamo tanti e c'è stata una una interruzione spero che la la diretta stia continuando ditemi qualcosa datemi un segnale chiedo a Flavio Casgnola se mi sta ok le domande di Flavio ce le ho allora stavo dicendo e purtroppo si è interrotta mi dispiace perché eravamo circa 5200 e adesso siamo tornati a essere 4500 circa mi dispiace per quei 700 che abbiamo perduto ma vi stavo dicendo ed è fondamentale che questo punto mi dispiace perché si è interrotta per un problema di connessione la diretta in un momento particolarmente importante vi stavo dicendo nel momento in cui si è raccontato di questa di questa vicenda per indebolire una persona come il ministro Bonafede tant'è vero che anche molti hanno scritto ah ma Bonafede perché fa questo eccetera o per indebolire la figura l'immagine del dottor Di Matteo il che è molto triste è molto squallido è molto scandaloso che cosa si fa ve lo dico molto serenamente si aiuta la mafia perché la mafia ha tutto da guadagnare quando le persone per bene anziché fare gruppo anziché stare uniti anziché combatterla insieme si spaccano quando le forze antimafia si spaccano si separano litigano fra di loro evidentemente la mafia se ne giova se c'è una opinione pubblica anticorruzione antimafia forte compatta unita la mafia ci perde perché le decisioni che vengono prese dalla politica a tutti i livelli a tutti i livelli sono anche influenzate dal sentore da quello che succede dall'opinione pubblica è chiaro allora una vicenda del genere si sta utilizzando in maniera schifosa e scorretta per dividere il fronte delle persone per bene e quindi per dare respiro alla mafia ai malavitosi ai corrotti a chi vuole spaccare il fronte della vera antimafia a chi vuole in qualche modo indebolire la lotta politica e sociale delle persone per bene e anche giudiziarie perché chiaramente si stanno per l'ennesima volta facendo articoli di stampa che attaccano il ministro Bonafede c'è chi chiede le dimissioni del ministro Bonafede e allo stesso modo si stanno pubblicando articoli che attaccano il dottor Di Matteo è chiaro che dicono ma perché ha telefonato eccetera eccetera e questo è quello che dobbiamo evitare in tutti i modi quindi vi invito se vogliamo davvero continuare a combattere la mafia come è stato sempre fatto dalle persone per bene dagli italiani per bene dobbiamo assolutamente evitare di spaccarci in gruppi di tifosi l'agguato che è stato andato in onda questa domenica e anche la domenica precedente perché già Giletti la domenica precedente senza nessun contraddittorio aveva pompato su quello è finalizzato alla creazione di due tifoserie contrapposte ragionate una con Di Matteo e una con Bonafede così chi sta con Bonafede critica o attacca Di Matteo chi sta con Di Matteo critica o attacca Bonafede no io non ci cado in questa trappola è una trappola mediatica perfetta ma io non ci casco io sto con Bonafede e sto con Di Matteo non rinnego mezza parola delle cose buone che ho detto nei confronti del dottor Di Matteo in questi anni perché è un eroe della lotta alla mafia e non rinnego mezza parola delle cose che ho detto pensato e scritto su Alfonso Bonafede delle cose buone perché è un grandissimo ministro perché erano decenni che non avevamo un ministro di grazia e giustizia così integro così valido così efficiente che ha avuto il coraggio di fare le cose che ha fatto Alfonso Bonafede nella lotta alla malavita organizzata e alla corruzione davvero l'ho sempre detto peraltro chi mi segue lo sa l'ho sempre detto in televisione l'ho sempre detto qui su facebook l'ho sempre scritto è una delle veramente risorse di questo paese delle persone per bene di questo paese quindi non facciamo il gioco di dividerci in due fazioni in due tifoserie ma torniamo al programma di Giletti abbiamo detto inizia con la Meloni sviolinate dalla Meloni poi si parla di mafia attacchi al governo attacchi a Bonafede Giarrusso cerca di parlare cioè io e vengo interrotto mi parla sopra mi strilla fa i monologhi e basta non sono ladri di polli ma chi l'ha detto che sono ladri di polli vedete la tattica la tecnica comunicativa Giletti mi diceva non sono ladri di polli ma chi ha detto che sono ladri di polli chi li ha trattati come ladri di polli dire non sono ladri di polli così poi ci fanno il titolo è un imbroglio comunicativo perché sottende qualcuno ha trattato i boss come se fossero ladri di polli e chi è questo qualcuno Alfonso Bonafede e chi è che lo sta difendendo tu Giarrusso e sei scorretto perché stai difendendo i mafiosi trattandoli come ladri di polli e non è vero perché non nessuno ha trattato i mafiosi come ladri di polli è chiaro poi però arriva la telefonata di Alfonso Bonafede che doveva chiarire la cosa Alfonso secondo me da un punto di vista emotivo è evidentemente colpito e quindi fa tutto un giro di parole prima di spiegare la situazione con Di Matteo e quando la sta spiegando Giletti lo interrompe a un ministro lo interrompe gli toglie la parola lascia la parola a Martelli e quando Bonafede cerca di 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 concludere il suo ragionamento Giletti lo interrompe nuovo e poi gli dice basta basta io purtroppo adesso devo staccare perché sapete chi c'è? Briatore e voi lo sapete chi è Briatore? Briatore è un signore che è dovuto scappare dall'Italia perché è stato condannato per reati gravissimi legati alle bische clandestine e al gioco d'azzardo condanna richiesta di arresto scappa si dà alla latitanza internazionale nelle isole vergine non so in che posti strani del mondo dove è difficile ottenere l'estradizione e torna in Italia solo in seguito ad una amnistia ma io mi chiedo in quale paese del mondo si fa parlare in tv come se fosse un maestro di vita un signore che ha una condanna e che scappa dall'Italia per una condanna per bische clandestine e gioco d'azzardo e chi c'è di solito dietro il gioco d'azzardo e le bische clandestine chi c'è? l'unione dei salumieri alternativi? o c'è la criminalità organizzata di solito dietro quei reati lì? bene Giletti ha fatto parlare senza digli mezza parola e ha messo come metrapensé come esempio e ha tolto la parola al ministro di grazia e giustizia come dire che ha promosso leggi come la riforma della prescrizione ha tolto la parola al ministro per darla a Briatore persona condannata per reati gravissimi legati al gioco d'azzardo e che è scappata da queste condanne all'estero dandosi all'attitanza internazionale e poi ha subito e rientrato in Italia solo perché c'è stata un'amnistia perché se no doveva andare in carcere perché è scappato dal carcere e noi questo non lo diciamo mai io lo dico ma perché Giletti non lo dice nella sua trasmissione e gli lancio una sfida a Giletti se sei così attento alla mafia ai criminali dai il buon esempio non invitare mai più Briatore non lo invitare mai più spiegalo dillo nel tuo programma che Briatore è stato condannato in forma definitiva per reati molto gravi dillo nel tuo programma che Briatore per scappare a una richiesta d'arresto è andato all'estero perché non lo dici perché non dici che è stato un latitante internazionale è potuto rientrare solo dopo un'amnistia io ti sfido dillo e non lo invitare più fai una scheda come hai fatto la scheda col grande manifesto elettronico con scritti tutti i nomi dei boss carcerati fai la scheda dei precedenti penali di Flavio Briatore perché Briatore è un uomo molto potente sapete anche nel mondo dello spettacolo della televisione piazza è influente diciamo conosce bene gli agenti allora perché non lo diciamo chi è Briatore lo facciamo un bel un bel tabellone elettronico con i precedenti penali di Briatore io non lo posso fare il tabellone elettronico perché non ce l'ho quei mezzi economici costa molto quel tabellone elettronico gigantesco che c'ha Giletti dietro le spalle la 7 lo può fare però Massimo Giletti perché non fai un tabellone elettronico la prossima puntata con tutti i precedenti penali di Flavio Briatore l'uomo a cui hai dato la parola togliendola ad Alfonso Bonafede perché non lo fai io ti invito a farlo e perché quando inviti Giorgia Meloni non gli chiedi degli indagati e degli arrestati per reati di mafia nel suo partito perché non li ha cacciati sarebbe importante che tu lo facessi perché non lo chiedi a Salvini perché io ho parlato di Salvini che come sempre come sapete ha un rapporto molto buono con Giletti Giletti dice di salutare lo zio Massimo ecco perché allo zio Salvini non gli chiedi che cosa ne pensa di quei politici del suo della sua forza politica della Lega legati anche al prestanome di Matteo Messina Denaro del capo della mafia Nicastri il re dell'eolico in Sicilia perché non gli chiedi di Siri di Arata di Rixi perché non gliele chiedi queste cose a Salvini perché non gli chiedi dei 49 milioni sottratti dalla Lega delle quale pare che non abbia pagato nulla e pensate che uno dei giudici che ha che è stato ha firmato la richiesta di pena alternativa e quindi poi di scarcerazione di uno dei boss è la moglie dell'ex no del governatore dell'ex governatore del Piemonte leghista Cota e anche questo Giletti non l'ha detto però questo capisco che è un dettaglio ma invece che Briatore sia quella persona lì bene allora perché non diamo il buon esempio in tv e facciamo la lotta alla mafia facciamo la lotta alla corruzione non invitiamo più i pregiudicati che ne dite Sgarbi condannato per truffa ai danni dello Stato va spesso da Giletti perché Sgarbi era sindaco di Salemi un paese in provincia di Trapani in Sicilia che è stato sciolto per infiltrazioni mafiose perché lo continuiamo a invitare perché non fai un bel tabellone dietro con tutti i precedenti penali e civili tutte le condanne subite da Vittorio Sgarbi lo facciamo vengo anch'io ti aiuto perché io questo dovremmo chiedere noi a persone come Giletti io non accetto il fatto che venga insultato che gli si dicono le parolacce questo è sbagliato perché Giletti fa il suo lavoro e lo fa anche bene però il suo lavoro ha una tesi ha una direzione e io voglio sbugiardare quella tesi quella direzione allora vuoi togliere la parola ad Alfonso Bonafede per darla a un pregiudicato diciamogli tutti che quello lì è un pregiudicato diciamogli tutti che quello lì è stato latitante internazionale ed è potuto tornare in Italia solo grazie a un'amnistia questo dovremmo fare e vi chiedo scusa se ho parlato ancora tanto tempo oggi di questa vicenda ma è importante capirlo e vi prego ancora una volta non ci dividiamo fra tifosi di Bonafede e tifosi di Di Matteo non funziona così sono entrambe due bravissime persone entrambe due pedine importantissime per la lotta contro la mafia e contro la corruzione e non ha nessun senso dividersi fra tifosi dell'uno e tifosi dell'altro vogliamo fare i tifosi io sono tifoso del Catania poi ci sono i tifosi dell'Inter tifosi della Roma della Juve del Napoli del Palermo del Cagliari ecco io della Lazio della Roma ecco io sono tifoso del Catania ma quando si tratta di politica quando si tratta di un magistrato o di un ministro io non faccio il tifoso io studio le cose e mi faccio una mia idea e sono certo che Alfonso Bonafede è una pedina fondamentale della lotta alla mafia e alla corruzione e deve rimanere al suo posto e sono certo che il dottor Di Matteo sia un'altrettanto fondamentale pedina nella magistratura e non nella politica per la lotta contro la mafia e non bisogna attaccarlo perché secondo me si commette un errore ho finito questo argomento ne parleremo di altri due tre argomenti però vi invito davvero a ragionare sulle cose che ci siamo detti allora c'era una domanda di Flavio Casgnola che mi diceva perché Bonafede ha cambiato idea secondo te e perché poi adesso che Basentini è stato allontanato non ha richiamato Di Matteo allora questa seconda fase credo di aver capito poi è una domanda che va fatta a Bonafede però immagino che la ragione sia mi dispiace ragazzi il mio telefono a Catania si diceva una volta non ne vuole più significa proprio che è ai minimi termini purtroppo mi dispiace aver interrotto una diretta con 5.000 di voi collegati e purtroppo facciamo gli ultimi minuti prima di salutarci eh lo so lo so mi dispiace saluto Lori Violet Fiorella Longo e tutti gli altri che si riconnettono Silvana Chiappetta Jean-Pierre De Gaulle Teo Cidaci e tutti tutti gli altri Stefano Sarcinelli eccetera io peraltro ero bello infervorato pensate quanto è brutto mentre sei infervorato compare lo schermo nero non è una cosa non è una cosa che ci fa piacere allora prima di risalutarci davvero mi dispiace perché eravamo 5.000 e siamo adesso un migliaio si è interrotta la diretta perché il mio telefono si è staccato è rientrato pure Flavio al quale ho risposto Flavio ti ho risposto prima Flavio Casgnola ma tanto è una di quelle persone con la quale ci possiamo parlare anche per telefono un saluto Valentina Mattarella Raffaele Gennaro Mario Sciacca e tutti gli altri Antonio Gussio che è rientrato e tutti gli altri ragazzi qualche minuto ancora per parlare degli altri argomenti pare che l'argomento di Matteo Bonafede Giletti l'abbiamo abbastanza sviscerato peraltro vi dico anche un'altra cosa oggi è stata una puntata di Aria che tira dove Giletti c'era di nuovo dove Giletti era l'ospite dei Mirta Merlino in uno scambio di amorevoli cortesie e c'era Martelli di nuovo c'era Cagliazza presidente delle Camere Penali che ci detesta e detesta Bonafede per la riforma della prescrizione però pur di andare contro Di Matteo faceva questo scontro Bonafede di Matteo mi dispiace che non ci fosse nessuno di noi sinceramente ma come vi ho detto tante volte io rispetto gli ordini del gruppo comunicazione quando vado in tv è perché il gruppo comunicazione me lo ordina Nadia D'Angelo è stata la moglie di Cota a liberare i mafiosi gira questa notizia con tanto di ordinanza era uno dei giudici che ha firmato quella ordinanza che ripeto rispetta una legge dello Stato però così come non non è certo colpa del ministro Bonafede ci mancherebbe altro il giudice ha la sua ragione se ha emesso quella ordinanza adesso non lo potrà più fare perché il decreto legge di Bonafede obbliga qualunque giudice a sentire la procura nazionale antimafia e la procura distrettuale che ha istruito il caso di quel detenuto cioè fondamentalmente la procura nazionale antimafia deve essere avvisata per ogni richiesta di pena alternativa per qualunque persona condannata per reati legati alla mafia e il giudice che ha messo in carcere quello o quell'altro mafioso deve essere assolutamente deve essere assolutamente consultato prima di procedere con le misure alternative ciao Domenico Restuccia allora ultime due cose perché poi tra l'altro adesso inizia Scanzi quindi tutti vanno dal buon amico Andrea Scanzi alle 7 parlavamo di cassa integrazione perché adesso abbiamo parlato di questa importantissima vicenda e spero che si sia chiusa con questa diretta di oggi che da domani torneremo a parlare di altro ma vi prego non fate i tifosi di Bonafede o i tifosi di Matteo perché sarebbe una follia e poi invece parliamo della cassa integrazione la cassa integrazione non arriva in Sicilia perché la regione non fa la sua parte ieri io sono anche stato ospite di un piccolo programma televisivo regionale dove l'amico Luca Ciliberti c'era Armao c'erano tanti e ho detto molto chiaramente che la cassa integrazione in Sicilia non arriva per colpa della regione Armao si è arrabbiato però è la verità purtroppo ci sono dei grandi ritardi e c'è stato questo scandalo di richiesta di 10 euro da parte di dipendenti della regione per 10 euro a pratica per per occuparsi di queste pratiche di richiesta di cassa integrazione il che è assurdo e inaccettabile peraltro sarebbe un esborso essendoci state 136 mila richieste sarebbe un esborso di oltre un milione 300 mila euro ma non è soltanto questo è il fatto che è imbarazzante che ci sia stata questa richiesta ed è imbarazzante che la regione sia così indietro ieri Armao cercava di arrampicarsi sugli specchi ma è evidente che c'è un problema della regione peraltro lo ha messo lo stesso Musumeci che su quello la regione siciliana è molto in ritardo ma lo è anche la Sardegna lo è anche la Basilicata lo sono anche altre regioni sì sì a proposito di ospiti con precedenti scrive Dino Rappoli si può parlare anche di Martelli ne ho parlato ampiamente nella diretta mi spiace davvero anche a me Carolino Mirimin del fatto che la diretta si è interrotta saluto l'amico Massimo Lapiana Cassa Integrazione sì è quello di cui sto parlando Emiliano Sabbia stavo parlando proprio di questo altra cosa che vi volevo dire riguarda la sentenza della Corte Costituzionale tedesca sul quantitative easing non ci dovrebbero essere conseguenze per gli aiuti europei l'ABC ha il tempo di tre mesi per dare le sue controdeduzioni chiaramente tutti i paesi hanno la loro Costituzione che deve essere rispettata nel caso in cui il paese ha degli obblighi europei ce l'ha anche l'Italia però vorrei ricordare e quindi cari amici agrumicoltori siciliani cari amici agricoltori cari amici imprenditori cari amici barbieri parrucchieri sappiate che non verrete abbandonati che non verrete abbandonati da noi che non verrete abbandonati da questo governo ne sono certo ma da noi del Movimento 5 Stelle meno che mai in questa battaglia per ripartire in maniera sicura e con tanti soldi a disposizione per averli vedete alle mie spalle le bandiere europee faremo di tutto per averli anche dall'Europa anche a fondo perduto qualcuno mi ricorda che anche la Calabria è in grande ritardo è vero però vi assicuro che non vi lasceremo soli che ci saranno non solo prestiti agevolati ma anche denaro fresco diciamo così a fondo perduto per i nostri imprenditori non dobbiamo lasciare soli nessuno dobbiamo soltanto capire quando è il momento giusto per ripartire perché ripartire troppo presto sarebbe stato gravissimo qualcuno mi scrive già russo come mai la lettera è partita con indizio sbagliato cara Elena Pastore è stato come ho spiegato un errore di un funzionario gravissimo che verrà punito per questo qualcuno mi scrive Leonardo Papagno Mirta Merlino ha detto che alcuni parlamentari di Cinque Stelle sono contro Buonafede a favore di Matteo no è gravissimo sarebbe gravissimo ci sono alcuni parlamentari che continuano giustamente a ricordare il valore di Matteo ma nessuno deve essere contro Alfonso Buonafede se qualcuno lo fa se ne dovrebbe secondo me vergognare se qualcuno del Movimento Cinque Stelle lo fa va bene accetto che Teresa Pagano mi si sposti e vada a seguire scansi nella lista aggiungo anche te grazie ciao a Carlo Malignaggi 600 euro stagione del turismo mai arrivati Carlo puoi scrivermi in privato per la tua situazione oggi come ho spiegato non oggi chiedo scusa ieri nel programma di Telecolor ho parlato degli stagionali avevo incontrato gli stagionali della Rivera Ionica della zona di Taormina Giardini Naxos eccetera e naturalmente dobbiamo aiutare anche loro che hanno un contratto particolarmente svantaggioso per quel che riguarda gli aiuti io penso che il reddito di emergenza aiuterà anche loro Domenico Correale farvi rispettare più con maniere forti leggi dove rischiano anche 10 anni è giusto ma ricordo sempre come detto all'inizio che per fare approvare una legge ci vuole la maggioranza quindi bisogna convincere anche altre forze politiche a votare le nostre leggi credo che lo abbiamo fatto e anche bene pensate al reddito di cittadinanza pensate allo spazzacorrotti riforma della prescrizione decreto di dignità quota 100 eccetera però non sempre ci si riesce sì Cagliazza ha difeso il ministro Buonafede l'ho sentito gravissimo il fatto che in Sicilia me lo suggerisce Massimo Costanza il mio amico e collaboratore l'assessorato al turismo e l'assessorato all'agricoltura siano in mano l'assessorato scusa alla cultura e all'agricoltura siano in mano alla Lega che ci ha sempre detto Terroni che ha sempre fatto in Europa un lavoro contro le regioni meridionali e a tutelare soltanto l'agricoltura settentrionale e che in particolare per quel che riguarda la cultura insomma quelli che scrivevano forza etna distruggili tutti non dovrebbero secondo me essere votati dai siciliani o dai campani o dai calabresi ma soprattutto non dovrebbero rivestire quel ruolo ma Musumeci se si tiene un assessore come Maglio Messina che fa il fotomontaggio di Conte arrestato proprio lui che è stato prescritto da sfuggito a una condanna grazie alla prescrizione e sfuggito a un giudizio perlomeno grazie alla prescrizione beh credo che Musumeci non abbia questa sensibilità Musumeci si dovrebbe mettere a lavorare e far arrivare i soldi di cui hanno diritto i siciliani per la cassa integrazione lavorasse lavori si dia da fare anziché litigare con altri e chiacchierare perché Musumeci chiacchiera molto e conclude davvero poco vi abbraccio grazie Agata Spampinato per i 600 euro ha fatto domanda ancora nulla mandami se vuoi la domanda col numero e facciamo in modo di verificare a che punto sta la tua domanda ti diamo una mano cara Agata un abbraccio anche a Tonino Martarama che dice salame cacciatore win e perché fa queste battute ironiche obbligatorietà dei vaccini come ho detto più volte non sono come molti medici diciamo sono perplesso dai 12 vaccini nel primo anno di età sappiate che io però non sono un medico mi fido di quello che dicono i medici e anche dell'impatto psicologico che ha sulle mamme quella cosa di dover obbligare i 12 vaccini ci sono molti paesi europei che non hanno quell'obbligo di 12 vaccini nel primo anno non si crede che nessun paese europeo ce l'abbia forse soltanto uno quindi dobbiamo stare molto attenti a fare delle leggi che curino anche il percorso post vaccinale nel caso ci fossero effetti collaterali subito intervenire per aiutare eventualmente il bambino che dovesse o l'adulto chiunque dovesse avvertire effetti a causa dei vaccini e valutare quanti vaccini fare quali sono quelli davvero obbligatori quali sono quelli consigliati quali sono quelli facoltativi quello credo che sia la via più giusta ho letto una battuta molto divertente oggi su twitter mi sembra dove qualcuno diceva tutte le liti che hanno fatto i virologi italiani e alcune brutte figure che hanno fatto dicendo in Italia non c'è nessun rischio di contagio fino al 17 febbraio poi si è scoperto che era falso rimpolperanno le fila di quelli che sono antiscientisti no non bisogna essere antiscientisti bisogna ricordare però che la scienza non è l'opinione di un medico o di quell'altro medico o di un medico che si crede il possessore della scienza perché va alla Leopolda no quello no anche perché quel medico il 17 febbraio ha detto che in Italia non c'era nessun rischio di contagio era più facile morire per colpa di un fulmine credo che dovrebbe chiedere scusa perché ha detto una grossa castroneria e non è il solo attenzione perché tanti altri medici hanno detto castroneria il che ci fa capire come sapevamo già da prima che nessuna scienza è onniscienza che nessuno di noi è onnisciente che anche importanti scienziati alcuni non lo sono si vantano di esserlo fingono di esserlo hanno un H-index molto basso come quelli che ho citato ma anche scienziati importanti possono sbagliare quindi stiamo sempre attenti sia a evitare i complotti e il complottismo sia a come dire idolatrare persone che sono esseri umani come noi e come tutti noi fallibili un abbraccio ragazzi scrivetemi in privato se avete determinati tipi di difficoltà la storia dei 10 euro della cassa integrazione l'ho detta vi abbraccio vi do appuntamento a domani se ci fossero delle incredibili novità ci rivedremo stasera ma non credo credo che ci parleremo domani un abbraccio spero di fare quel video e poi vi chiederò di diffonderlo per spiegare bene bene perché la trasmissione di Giletti era un mere proprio guad a presto un abbraccio grazie a tutti